...per il giovane centrocampista di 20 anni, Filippo Ranocchia, 1-0 per Aiuetus. È stata ottima la costruzione dell'azione perché questa palla è stata spostata da sinistra verso destra, si è creato un 2 contro 1 con Sole che è andato ad attaccare lo spazio e con Desciglio che ha portato la palla. Qui andiamo a vedere, lo vediamo benissimo. Sole si allarga, bisogna aspettare che il centrale, che si è caldironi in questo caso, venga a stringere, troppo basso Macin, diceva in palla Ranocchia, bravo a spostarsela e qui trova un gran gol.